ok partiamo dopo qualche mese di stop si ricomincia si ricomincia forse meglio che scendo un po che scendo un po sembra quasi il paralumno di una candela di un portalampada copriamo la buca mi raccomando e avanti sarà mica una pala da cannoncino che scendo un po questo è austriaco ci sono descritti dietro sicuro bottone non so perché, ma spero secondo me è un altro bossolo eccolo qua l'altro bossolo era lì e l'altro è qua alleluia monetina due kreuzzer l'inizio del milenove l'inizio 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 stessa buca signori due monete sempre due kreuzzer pazzesco l'inizio 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 montagna fa ancora tanto caldo infatti ho preso anche la giacca questa mattina ma l'ho tolta subito la prossima uscita sarà con l'equinox 800 che è un bel po' che l'ho lì a casa da provare niente come prima uscita non mi posso lamentare ricordatevi di iscrivervi al canale seguitemi su instagram adesso vado a mangiare un boccone ciao ragazzi